Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come settare OBS in modo tale da permettere ai vostri spettatori durante lo streaming su Twitch di scegliersi la risoluzione, partendo dalla risoluzione più bassa fino a quella consentita da Twitch. Andate nelle impostazioni di OBS, andate su video e a risoluzione di base scegliete 1280x720, a risoluzione effettiva di uscita scalata scegliete 1920x1080. Cliccate su ok e se streammate ad esempio da un dispositivo esterno, cliccate con il tasto destro proprietà sul dispositivo esterno, cliccate su personalizzato e qui digitate 720x480. Ovviamente modificando la risoluzione qui avrete un'anomalia, potete risolverla in questo modo. Togliete la spunta al lucchetto, tasto destro, trasforma adatta allo schermo. In questo modo qui streamerete in modo tale che i vostri spettatori potranno scegliersi la risoluzione che preferiscono.